musica musica allora peppe non scendere dal tavolo che è pulito a terra ma si scivola dai ma non si scivola così tanto oh 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 peppe dove cacchio vai non si scivola ma dove come si scivola ma non male che c'è lo scatolo wow che cazzo fai c'è lo scatolo ok non ti muovere finchè non si asciutta bene il pavimento no no non mi muovo speriamo che nessuno entri in casa esatto tenendo di qua pure le spese ospedaliere io non le pago uè ciao aiuto no salsiccia napoletana no non ti muovere perchè non mi devo muovere che è sto pavimento ma che è la pista di pattinaggio ma da basta scivolare cammino piano forse non scivolo oddio a aiuto aiuto mela mela ho avuto una paralisi aiuto levati dal cacchio aiuto tu non lo lavi più il pavimento ma da aiuto aspetta non sto scivolando più ci diciamo da oggi tu non lavi più il pavimento ok andiamoci a fare una pizza esatto da salsiccia napoletana dove è salsiccia napoletana si i battiti stanno bene dottore per quanto tempo devo rimanere sopra all'ospedale tre giorni dottore ritengo la pizzeria però eeeh per tre giorni non puoi lavorare nella tua pizzeria eeeh 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 eeeh